Ciao a tutti da Parafranze e benvenuti, oggi un unboxing perché ho ordinato un martello cinetico per svuotare i bossoli Ok, io ho andato su Amazon con l'apertura facilitata Ed ecco come si presenta l'oggetto L'SR1750 Andiamo ad aprire la confezione Abbiamo quelli che tengono i proiettili o unghie tenute insieme da uno ring in alluminio, sono tutte in alluminio Ok, il martello, la plastica devo dire che è molto solida Manico e punta in plastica, mentre il corpo è in alluminio anch'esso Ecco qua Andiamo a svitare la parte superiore Riavvitiamo Ok, ho portato sul bancone un colpo per Carcano 91 Già inerte Per provarlo, come vedete E vediamo se si adatta con questo martello Abbiamo qua tre diverse larghezze Direi che per questo conviene scegliere la più larga Apriamo Infiliamo il proiettile così Inseriamo dentro Chiudiamo E bisogna sbattere forte contro una superficie dura Ora quindi questo bancone non va bene perché essendo un tavolo non è molto duro, anzi abbastanza mobile Ora proviamo ad adattare un colpo per glisenti Direi di usare quella intermedia Ecco qua Sì, direi che ci sta perfettamente E il meccanismo è sempre lo stesso Ovviamente quando sono carichi, non come questi due qua Si può recuperare anche la polvere al suo interno Oltre che la palla ovviamente Benissimo, per questo video è tutto da Parafranz Chiudiamo il prodotto Ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti.